Dopo un mese di giugno, ben al di sotto di numeri sperati, con arrivi negli aeroporti sardi che si sono attestati intorno al 50% in meno rispetto al 2019, i recenti sviluppi dell'andamento della pandemia iniziano a destare forti preoccupazioni tra gli operatori del sistema ricettivo. Il trend verso un rialzo dei contagi non deve portare a chiusure generalizzate che farebbero ripiombare la regione nell'incubo del lockdown, una prospettiva da scongiurare che allarma gli operatori del centro-nord Sardegna. «Contavamo su una stagione SIVA 2021 più tranquilla, che andasse verso una rapida normalizzazione, ma la situazione attuale ci preoccupa non poco», avverte il presidente di Confindustria centro-nord Sardegna Giuseppe Ruggiu, stagione che appena un mese fa sembrava promettere bene. Adesso il contesto è cambiato, ma si può correggere la rotta. Ci vuole uno sforzo rapido per cambiare velocemente i parametri che concorrono alla definizione dei colori delle regioni, sollecita Nicola Monello, presidente della sezione turismo di Confindustria. Iniziano ad arrivare le prime cancellazioni non solo dall'Europa, ma anche dall'Italia, l'unico mercato che sta realmente tenendo in piedi la stagione. Chiediamo a gran voce che venga immediatamente rivista l'attribuzione dei colori e anche le eventuali limitazioni siano concordate e condivise tra tutte le regioni. Continuiamo a pensare che il Green Pass debba essere la carta di accesso all'isola. Non possiamo permetterci di far entrare persone senza nessun controllo». Grazie. 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 Grazie.